buongiorno sono mario barbagallo titolare presso un i3 edu del corso di radiestesia radionica il corso viene erogato in modalità online live che prevede l'interazione tra docente e studente e la possibilità di ricevere materiale online il corso a carattere quindicinale ogni lunedì dalle 14 30 alle 16 30 il corso si articola in due parti la prima parte c'è una spiegazione della teoria radiestesica degli strumenti di come operare radiestesicamente nella seconda parte si parla di radionica come caricare e trasmettere vibrazioni curative ne ringraziare per l'attenzione segnalo che il programma didattico è consultabile unitamente al curriculum del docente all'elenco di tutti i corsi programmati oltre 300 liberamente frequentabili nel numero che si desidera e alle modalità di iscrizione accedendo al sito www.unitreedu.com a presto e grazie per l'attenzione buone feste